Poi passiamo a lui. Buonasera, saluti, ben trovati. Siamo qui nel centro oratorio dei Sette Dolori con il parroco Don Francesco e una serie di persone che si stanno esercitando su manichini anatomici e medicali. Don Francesco, che sta succedendo? Eh niente, abbiamo pensato tempo fa di munire di un defibrillatore sia la poprocchia che è il cindro pastorale e quindi poi preparare alcuni che possano, speriamo non servirà mai, ma nel caso di poter utilizzare il defibrillatore. Quindi abbiamo fatto questo primo corso nella speranza che poi in futuro possiamo farne altri per chi vuole, per chi sente questa necessità. Ma intanto sentivo gli istruttori che sono precisi, metodici, tendono al perfezionismo. Il caso non può per il dottor, com'è il vostro nome? Merenda, merenda, Mauro merenda. No, allora, purtroppo l'evento dell'arresto cardiocircolatorio è un evento che, ahimè, capita molto spesso. Statisticamente, sa, un arresto cardiaco uno ogni otto minuti arriva in Italia. È un evento molto importante ed è drammatico e l'unico modo per poter ovviare alla risoluzione di un arresto cardiocircolatorio è il massaggio cardiaco, la reanimazione cardiocormonale. Per poterla fare dobbiamo necessariamente seguire un corso istruttori, un corso per poter gestire al meglio questo evento drammatico, questo evento acuto, con l'utilizzo del defibrillatore che per fortuna oggi in Italia viene sempre più preso in considerazione e sempre più disponibile in tutte le strutture. Per fortuna oggi con la parrocchia, con l'utilizzo di questi due fibrillatori che vengono allestiti, diamo la possibilità, qualora ci dovesse paventare un arresto cardiocircolatorio, una probabilità di riuscita a un evento che in alternativa dà morte certa. La parola evento cardiocircolatorio potrebbe apparire sofisticata e scientifica, ma nulla di più semplice che in un, tra virgolette, ammancamento di forze ai piedi di una bale sull'altare di Don Francesco, la signora moglie o la signora vedova o la madre si senta male ed è facile che... Certo, un evento abbastanza drammatico potrebbe generare un arresto cardiocircolatorio a persone che sottendono delle patologie cardiache e potrebbe succedere e capita purtroppo spesso e con l'aiuto del defibrillatore con un massaggio cardiaco possiamo ripristinare quello che è successo. E intanto abbiamo visto Don Francesco che aveva a che fare con un manichino di un bambino. Noi abbiamo... Lui ci auguriamo che i bambini, lui li immerga nel gran bentolone di acqua benedetta. Purtroppo l'arresto cardiocircolatorio non esula nessuno, non escuta nessuno. Da zero giorni fino a 99 anni tutti possono avere un arresto cardiocircolatorio. Per fortuna possiamo dire che man mano l'età è sempre più giovanile il rischio di arresto cardiocircolatorio diventa sempre minore, però tutti possiamo avere, purtroppo le croniche dei nostri giornali ci dicono che qualche volta... Anche nei luoghi dove qui si fa dello sport, c'è stato un grosso traffico di gente. Noi siamo particolarmente felici di questa condizione, mutuando anche la situazione. Oggi i camerieri, i ristoranti o di uno a becco devono tutti essere a conoscenza di quella tecnica umidiana, della disostruzione delle vie aeree, che è anche una manovra che abbiamo oggi insegnato a tutti questa bravissima gente che si rende disponibile e che dà la probabilità di sopravvivenza purtroppo anche una persona che mentre mangia un gelato, mentre mangia una pizzetta potrebbe soffocare improvvisamente e senza la manovra di disostruzione delle vie aeree, della famosa manovra di Haimlich, non ha possibilità di sopravvivenza. Intanto non richiede un grosso impegno temporale, nel senso che in quanti giorni riusciamo a rendere una persona edotta ed erotica? Allora, il corso mediamente dura dalle 6 alle 7 ore più o meno e facciamo tutti e tre i moduli adulto, pediatrico e lattante con le disostruzioni delle vie aeree di tutti e tre gli aventi e in una sola giornata riusciamo a formare una personale laico, non sanitario e possiamo dargli l'abilitazione per poter utilizzare il defibrillatore e la certezza di poter garantire un'assistenza adeguata in attesa che arrivano così avanzati. Fino adesso abbiamo visto a terra corpi a grandezza di bambini ma poi la seconda fase passerà a questi più grandi. Allora, esiste il primo modulo, questa qua è un modulo adulto, rappresenta più o meno un uomo di mezza età, corporatura media, che potrebbe essere purtroppo vittima di arresto cardiocircolatorio. Poi abbiamo il bambino che è mediamente un'età adulta intorno ai 5-6 anni e poi abbiamo il lattante che più o meno rappresenta un lattante più o meno di un'età di circa 4 mesi, 4-5 mesi. Questo è un bambino di 5-6 anni, questo è un adulto ed a media più o meno intorno ai 40-50 anni e lui intorno ai 5-6 mesi. E cosa si conclude con l'utilizzo delle piastre del defibrillatore? Il defibrillatore è una cosa fondamentale perché, ricordiamolo, un arresto cardiocircolatorio può essere ripristinato solo con l'utilizzo del massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore che opportunamente utilizzato sicuramente diamo una probabilità di ripristino, si chiama ROSC, ripristino del circolo spontaneo di non solo una vittima di arresto cardiocircolatorio. Noi abbiamo parlato di chiese, ma nei vostri programmi si stanno, eccolo qua il defibrillatore che è un po', lo vediamo in giro in tutti i pacchi, giochi, luoghi sportivi. Questo è uno strumento molto semplice da utilizzare che appunto con un brevissimo corso d'aggiornamento riusciamo ad utilizzarlo in maniera sicura e appropriata e con questo apparecchio noi siamo in grado quasi sicuramente, primo, di riconoscere un arresto cardiocircolatorio e secondo, di poterlo gestire in modo tale da, come si dice, tecnicamente riconvertire e la...